Buongiorno, ben risvegliati e ben ritrovati per questo consueto appuntamento quotidiano con i giornali, con la carta stampata, sfoglieremo naturalmente il resto del Carlino Messaggero e Corriere Adriatico nelle edizioni locali, però procediamo con ordine, prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi giovedì 30 aprile, San Pio V abate, il sole è sorto alle 6.01 e tramonterà alle 20.09. E guardiamo il tempo, partiamo dalla nostra postazione meteo che ci dice che la temperatura in questo momento al suolo è di 12 gradi, vediamo anche la webcam che ci mostra un cielo parzialmente nuvoloso, però vedete sull'orizzonte ci sono bei colori, c'è un bel azzurro speriamo che nel corso della giornata il tutto migliorerà, vediamo invece cosa ci dicono gli amici della protezione civile per questo weekend anche festivo, perché insomma domani è il primo di maggio è un giorno di festa, quindi c'è la possibilità di fare un ponte, vedete per oggi c'è la simbologia della pioggia che compare un po' su tutta la regione, quindi nella prima mattinata parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nel settore centro-settentrionale, schiarite sempre più ampie, però nella tarda mattinata le precipitazioni sono presenti nella prima giornata, nella prima parte della giornata sul settore centro-settentrionale, però insomma assenti per il resto della giornata, quindi avremo probabilmente pioggia nella prima parte di questa giornata di giovedì, invece domani il giorno festivo, venerdì primo maggio, cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio, però non ci sono precipitazioni e le temperature sono in aumento nei minimi, quindi andiamo verso il tempo per cui sabato lo schema si ripete, parzialmente nuvoloso, niente precipitazioni e le temperature sono in aumento, quindi probabilmente insomma sarà un weekend dal punto di vista meteorologico abbastanza favorevole, quindi insomma prendete le vostre contromisure. Guardiamo i giornali, partiamo dal messaggero, dal Corriere Adriatico di Pesaro che apre con la cronaca, una rapina alle slot, sequestrati barista e cliente, minacce con un coltello, 1500 euro il bottino, vedete qui il momento dell'uscita dalla caserma, si sospetta anche sul secondo complice che ha effettuato la rapina. Rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico, sempre per quanto riguarda Pesaro Urbino, ancora cronaca, rubano due volte lo stesso scooter, sono stati denunciati due quattordicenni, sorpresi in sella al mezzo trafugato. Ancora dal Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano che qui invece apre con la politica, ieri è stato un giorno di presentazione di diverse candidature tra volti nuovi e volti già conosciuti, quello di Renato Claudio Minardi è un voto conosciuto, la sua presentazione è stata questa, la sanità sarà per lui un impegno 24 ore al giorno e quindi Minardi avvalla la scelta dell'ospedale unico tagliando in questo modo liste d'attesa e rivedendo l'integrazione. Quindi continuiamo sempre nelle pagine di Fano per il Corriere Adriatico che dà un bello spazio per quanto riguarda la presenza di Sabina Guzzanti, regista, attrice, comica al Politeama insieme al regista americano Michael Moore. C'è stato il tutto pieno per questo film, la trattativa sulla trattativa Stato-Mafia e quindi sulla Guzzanti tutti d'accordo, una folla al dibattito anche dopo la proiezione del film. Vedete nella foto appunto il regista Michael Moore che insomma in Oltreoceano ha fatto diversi film, documentario anche di denuncia. Ancora sulle pagine del Corriere Adriatico la Municipale nega, parliamo della Municipale di Fano nell'articolo di Silvia Falcioni, la Municipale nega i dati sulle multe, Autovelox sulla E78 che lo vedete ritratto nella foto, sempre nel solito posto, nel distributore di benzina. L'assessore del vecchio chiede gli incassi, insomma l'ex assessore del vecchio chiede gli incassi ma Fuligno dice sono parziali e non li divulgo. E quindi c'è anche un'altra questione che riguarda l'assessore del vecchio, dopo la vedremo nelle pagine di altri giornali. Vediamo il messaggero che apre in testa con naturalmente la politica, politica regionale, spacca il governatore uscente, la vera sfida è produrre reddito, questo è il suo diktat. Vedremo anche di che cosa si tratta, questa considerazione sicurezza niente sentinelle. Il prefetto Pizzi ipotizza piuttosto un modello ispirato al cosiddetto controllo di vicinato dove i cittadini sono un po' come dire degli occhi e delle orecchie per vedere cosa succede. Nei quartieri nascono i gruppi su WhatsApp per contrastare furti in serie nelle abitazioni, anche qui nella fotonotizia l'arresto dei banditi nella sala. Giochi e il meteo, la pagina del meteo del messaggero ci dice che le nuvole non mollano e quindi le abbiamo viste. Continuiamo sulle pagine del messaggero, la questione del porto e dei fanghi, si sta vedendo quali sono le soluzioni migliori per portare a termine questi lavori, quindi c'è un'accelerata, partirà oggi lunedì al massimo l'intervento per rimuovere il tappo che ostruisce il fiume. Vedete appunto le ricognizioni in queste foto della Capitaneria e vediamo naturalmente che c'è grande attenzione su questo problema, non soltanto per quanto riguarda Fano ma anche per quanto riguarda Pesaro perché abbiamo visto nelle giornate precedenti insomma che parecchie imbarcazioni sono rimaste proprio a secco nel porto di Pesaro, quindi insomma anche loro sono con gli stessi problemi come il porto di Fano. Quando è alla fine rimaniamo nella pagina di Fano del messaggero Marina dei Cesari senza il dragaggio appunto, quindi rimaniamo su questo argomento. Un danno procurato da 3 milioni di euro lo dice l'amministratore della Darsena Turistica che vedete nella foto Enrico Bertacchi, l'amministratore dice appunto la Darsena Turistica messa in difficoltà da questo mancato dragaggio e dice la perizia ci ha dato ragione, ora valuteremo le strade da seguire perché la cifra del reggimento è destinata anche a lievitare di un milione all'anno nel mirino, finisco naturalmente nel mirino della Marina dei Cesari, Regione Comune e Denel. Affrontiamo l'ultima testata che noi guardiamo sempre insieme a voi, il resto del Carlino, partiamo da quella di Pesaro che naturalmente focalizza anche l'attenzione sulla festa dei lavoratori, sul primo maggio, modi anche alternativi, se vogliamo colorati e goliardici di festeggiarlo e i giovani non hanno dubbi, c'è il Color My Life per un primo maggio diverso, una camminata colorata dall'iper al Miralfiore, vedete i ragazzi che con alcuni pigmenti e colori insomma in polvere con le magliette bianche danno vita a questa giostra colorata. Era previsto anche l'arrivo di Landini, però il segretario della FIOM che doveva tenere un discorso appunto al parco Miralfiore, ma salta questa sua apparizione per dei motivi di salute, quindi Landini non ci sarà. Ancora nelle pagine del Carlino Pesaro, una città virtuosa, una città che pedala, lo dice il sindaco Ricci, ora siamo la capitale della bicicletta, classifiche di Liga Ambiente, Pesaro ai vertici raggiunte e superate addirittura Bolzano e Ferrara, quindi insomma è un percorso questo da insistere, la bici politana è arrivata a, pensate, 79 chilometri, adesso punteremo dritti al centro, la mobilità green, la mobilità ecosostenibile è sempre una buona cosa in queste nostre città metropolitane così attanagliate, affogate dallo smog spesso e dalle polveri sottili. Ancora dalle pagine di Pesaro e del resto del Carlino la questione del prefetto che azzera i contatti con la stampa perché dice non ha mai parlato di sentinelle, ora ho chiuso con la stampa perché il Ministero ha chiesto spiegazioni sulle sue parole che sono state riportate, nell'articolo c'è tutta la divulgazione della vicenda. Vi dicevo la politica, nuovi volti e vecchi nuovi, questi sono nuovi, Sansuini e Zaccarelli sono candidati in scelta civica e nella conferenza stampa di ieri hanno detto per uno di noi sarà eletto come consigliere nella regione. Marche, ancora nella pagina di Fano del resto del Carlino, superassessore, vi dicevo appunto Del Vecchio, protagonista di un'altra vicenda oltre a quella che abbiamo visto nell'altra testata, il superassessore incastra la giunta perché il consiglio è distratto e vota la proposta di Del Vecchio, una difficile marcia indietro ora perché appunto l'esecutivo rischia di restare solo con quattro amministratori. Vedete un po' anche raffigurati nelle foto i protagonisti di questa vicenda. Ancora nelle pagine di Fano del resto del Carlino, la Guzzanti Sabina è naturalmente grande protagonista al Politeama, non c'è trattativa per lei, tutti d'accordo, anche con Michael Moore c'era il regista appunto americano insieme alla Guzzanti, vedete veramente affollato in ogni ordine e posto il teatro Politeama per questa apparizione, questa proiezione di film. Ultima pagina che vi facciamo vedere è quella di Fano del Corriere Adriatico, del resto del Carlino chiedo scusa e anche qui la politica, Minardi si presenta e tira stilettate nella sua presentazione di campagna elettorale per le regionali a Sollazzi e Spacca che chiaramente hanno tradito. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevamo per questa rassegna stampa dell'ultimo giorno di aprile, domani 1 maggio non ci sarà, ci rivedremo naturalmente la settimana prossima perché anche il 2 che è sabato i giornali non ci sono, però ci sarà occhio alla notizia la sera. Bene, grazie per essere stati con noi, appuntamento appunto a questa sera alle 20.30 con il Tg. Occhio alla notizia, buon proseguimento di giornata a tutti e poi. Grazie a tutti.